Altro cioccolato e la fiera delle utopie concrete. A Città di Castello sono protagoniste le produzioni sostenibili. Ce ne parla nel prossimo servizio Andrea Chioini. Una convergenza di iniziative che trasformerà Città di Castello in una piccola capitale dell'economia sostenibile. Partiranno insieme, infatti, venerdì prossimo, Altro cioccolato e la fiera delle utopie concrete. Nelle rispettive conferenze stampa sono stati presentati relativi programmi. Le decine di stand di Altro cioccolato saranno presenti in Piazza Matteotti e in corso Vittorio Emanuele. Il tutto intrecciato con vari incontri laboratori, agricoltura sociale, campagna contro la povertà, una riflessione sullo spreco ai tempi della recessione in un confronto con Last Minute Market. Non mancheranno i 24 protagonisti di Physic Youth Action, ivoriani, togolesi, cechi e italiani partecipanti ai laboratori tenuti a modica sul cacao. E ancora Pop Economics Live Show, prodotto da Banca Etica, la finanza da problema risorsa, Shady Chocolate, documentario sulle ombre della produzione mondiale. Il tutto avvolto dalle musiche di Flacco e Isubanda, senza dimenticare la presenza di Paolo Rossi, sabato 19. Start identico per le utopie concrete, che spalmeranno il loro programma nell'arco di tre fine settimana, con altrettanti laboratori ospitati da Palazzo Vitelli e dal Circolo degli Illuminati. L'impegno sarà quello di costruire insieme la città sostenibile, ha detto tra l'altro Carl Ludwig Schiebel, coordinatore delle utopie concrete. A partire dal Master Plan Smart, che si sta prontando a Città di Castello, con lo sguardo attento alla programmazione europea 2014-2020.